Carissimi amici, oggi siamo qua a fare un video di Poppy Playtime, ma questa volta con le chiamate a Mommy Long Legs Bene sì, ho trovato delle app per poterla chiamare e tra l'altro oggi sono vestito in camicia, ma perché sono appena tornato da una serata E quindi non ho avuto tempo di cambiarmi, oggi mi vedete vestito così, poi vabbè, oh, di tanto in tanto ci sta cambiarsi, cambiare vestito, cioè Ed ho una vita che mi vesto sempre allo stesso modo nei video, è meglio cambiare, no, di tanto in tanto Va bene, dai, andiamo subito a provare queste app, ma come sempre, siete qui sotto tantissimi like, lasciate il più like possibile per supportare la serie E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la camparellina Adesso direi di partire, cominciamo, un panino in camicia che si mette qua a chiamare Mommy Long Legs Ho qui scaricato delle app per la chiamata, abbiamo infatti la possibilità di chattare, chiamarla, videochiamare e poi votare l'app se vogliamo votarla Ma io direi che possiamo evitare il voto, quindi, no, no, non con la chat Vabbè, partiamo con la chat, chattiamo con Mommy Long Legs e gli diciamo, ehi, buonasera Mommy Long Legs Ciao, amico mio, e niente, siamo già diventati amici, sono già diventato amico intimo di Mommy Long Legs Chiediamole, come stai? Come stai, caro amichetta? Dimmi Ah, dice che sta bene, grazie a me, tradotto malissimo, tradotto veramente malissimo Perché dice, I am good, ma non si dice I am good, si dice I'm fine Ma che roba Una Mommy Long Legs che non sa neanche parlare Va bene, chiediamole qual è il suo nome, what's your name, qual è il tuo nome, come ti chiami? Io sono Mommy Long Legs From Poppy Con quante P, aspettate, ma con quante P? 3 P Con 3 P, ma non sa neanche scrivere Poppy Ma con quale Mommy Longs Longs, sì, vabbè Con quelle Mommy Long Legs sto parlando Con quella comprata su Wish del clore brutto Mi sa che sto parlando con la Mommy Long Legs di Wish, eh Va bene, chiediamole quanti anni ha Scopriamo l'età di Mommy Long Legs 23 anni Ma cosa? Ma come 23 anni? Ma è più giovane di me questo? Mommy Long Legs è più giovane di me? Ma questo mi fa sentire vecchio Mi fa sentire ancora più vecchio sta cosa Ma perché? Ma che roba? Va bene, ha 23 anni Mommy Long Legs ha 23 anni Mi sento veramente vecchio No, no, seriamente, io quest'anno faccio 28 anni Com'è che questa qua ha 23 anni Già madre con figli E già una cosa gigante Che vive in quella fabbrica gigante Allora, chiediamo E lei diciamo Piacere di conoscerti E piacere Mommy Long Legs Ma quante domande ci sono ancora da fare Mamma mia, quante ce ne sono E ok, e lei mi dice Il piacere è tutto mio Che cosa ti piace? Scopriamo che cosa piace a Mommy Long Legs Rispondimi, cara mammina Ah, mi piacciono gli Horror Games Beh, dai, è una mamma a cui piacciono i giochi Horror Vabbè, ma adesso facciamo sta chiamata Insomma, non siamo qua a chattare Non siamo venuti qua per chattare Siamo venuti qua per chiamare Mommy Long Legs Sei pronta a parlare qui con me? Ok Su, su, rispondiamo, rispondiamo Eh Oh my god Ma che Ma che so ste voci Secondo me sto parlando con la Mommy Long Legs di Wish Del clone brutto Ho questo strano sentore Ho questo sentore particolare Chiudiamo sta chiamata Ma cosa, eh Ma una cosa veramente Vergognosa Ho detto vergognosa Con non so quante R Ma va bene lo stesso Andiamo avanti Facciamo la videochiamata Videochiamiamo Mommy Long Legs Siete pronti a vedere la videochiamata? Siete pronti? Dai Partiamo subito Tocchiamo video Call Vediamo qua Trrrr Che sembra No, sta suoneria qua Sembra quella dei vecchi telefoni di una volta Ma perché sta suoneria? Rispondiamo Ma Ma cos'è? Ma che cos'è sta cosa? Ma perché? Ma perché? Oh my gosh Oh my gosh Ma che cos'è? Ma cosa significa? Ma veramente io sono senza parole Sono senza parole E questa è solo la prima app, no? Di chiamata che ho trovato E perché ce ne sono tante Se vi iscrivete sul playstore Call Mommy Long Legs Vi sbuccano fuori tante di quelle app Che non potete neanche voi immaginare Ma che roba Vabbè, oh, dopo tutto Bene o male mi son vestito bene No, per sto video Cioè nel senso Bene o male che son vestito qua Un panino in camicia Che ti mette a fare le videochiamate Vabbè, sentite Mi stava per Ho tirato tipo un colpo forte qua alla sedia E mi si è aperto qualcosa dell'orologio Che roba Vabbè Lasciamo aperte Ne passiamo all'app successiva Ma che forse è meglio Forse è meglio Beh Questa app si presenta così Ehm Va bene Abbiamo la possibilità di chiamarla O videochiamarla Facciamo la chiamata Solita suoneria rispondiamo che? ma che? ma questa è la voce di poppy playtime non è neanche di momy long legs ma cosa? tra l'altro si chiama spider wide, perchè? questo è il trailer è l'audio del trailer di poppy playtime 2 vabbè senza parole, ma tra l'altro adesso ci stavo facendo caso, guardate bene le icone, no? qui davanti ma sembrano disegnate con paint, sembra che qualcuno si sia messo lì con paint oppure col dito a disegnarle, non sono neanche state fatte bene le icone della chiamata, ma che cos'è sta cosa? ma che letamità assurda è, ma neanche i cloni brutti si presentano così neanche i cloni brutti, ma cerchiamo proprio di capire tutta sta cosa vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere allora, come si chiude? ok c'è call again no, no, non faccio nessun'altra chiamata facciamo la videochiamata invece vediamo la videochiamata ok, sì, è sempre qua consenti cosa? oh, allora faccio qua sta videochiamata, va vediamo che cos'è? ma che videochiamata è? ma si vede poco e nulla cioè, mi sa che mi hanno dato di nuovo un'altra mombi long legs di wish ma che ha pure problemi di rete come mai si vede così? ma perché? ma perché? oh, non ci posso credere non ci posso credere ma come mi ci sei ritrovato a far sto video? cioè, io fino a poche non so, una mezz'oretta fa ero a far serata fuori adesso mi ritrovo qua a far queste app cos'è? ma cos'è sta schermata? bruttissima bruttissima e siamo soltanto neanche verso la fine del video perché ho scaricato altre app e quindi andiamole a vedere, va vediamo che cosa ci nascondono le altre app che perle tirano fuori, va ok, stai caricando fatemi sapere se vi piace così un panino in camicia di tanto in tanto fare sti video sti video cosa? cos'è sta cosa? next si apre già così si presenta così ma cos'è? ma che schermata è? ma da dove l'hanno tirata fuori questa? ma neanche dalle patatine San Carlo mi trovo queste cose ma perché? allora play un play di che cosa? di cosa? ah ma questi menù così che non c'entrano niente allora non è per dire ma uno vede un menù di questo tipo non è che pensa comunque ad un'app di chiamata horror si è girato pure su rimettiti così si può pure girare ma cos'è? cioè uno vede sta schermata così pensa a qualcosa a tutt'altro qualche giochino tranquillo una cosa di cucina addirittura cioè questo sta bene per un giochino di cucina ma non per una chiamata horror ma perché? ma che cosa si sono bevuti gli sviluppatori di quest'app? facciamo sta videochiamata va vediamo cos'è che sta caricando qua ok mommy sta chiamando rispondiamo va rispondiamo si mentre usi quest'app ma cosa? a parte che non si vede non si vede neanche la webcam oh my god ma cosa di nuovo sto oh my gosh ma cos'è sta cosa? ma con cosa l'hanno creata quest'app? ma così anch'io so fare le videochiamate hanno preso dei pezzi così a caso da altre parti con video che non c'entrano niente mischiati tra di loro ma cosa? mommy long legs non è per dire però aspettavo qualcosa di meglio un'altra mommy long legs di wish mi stanno dando qua cos'è? ma perché? ma perché? eh grazie che mi hanno mangiato ma come proseguiamo sta videochiamata? sto andando avanti si you need a live si si ho capito che devo stare vivo ma cos'è? ma sono pezzi di gameplay messi così a caso mischiati con altri video e poi si è proprio bloccato il video ma il timer sta andando avanti vabbè chiudiamo va facciamo chiamata vocale vediamo con questi telefoni che sono proprio quelli degli inizi del 2000 quei vecchi nokia con la tastiera accettiamo ma di nuovo con sta voce del trailer ma cos'è? hanno preso una mommy long legs e le hanno messo un nostro registrato che si ripete a manetta per farle ripetere le stesse cose ma cos'è? oh vabbè ce la posso fare ce la posso fare ma perché? ma perché tutto ciò? ma cosa ho fatto di male per ritrovarmi a fare ste cose? io veramente vorrei conoscere gli sviluppatori di quest'app e chiedergli che cosa si prendono la sera prima di andare a dormire prima di mettersi a fare queste app ma perché? ma che cosa gli salta in testa a fare ste cose? cosa gli viene in testa? vabbè e per la vostra fortuna e anche per la mia fortuna per la mia sanità mentale siamo arrivati all'ultima app e adesso andiamo a vedere insieme ah no no aspettate aspettate c'è ancora la chat c'è ancora la chat che è hello ah quindi devo proprio scrivere hello diciamo qua come stai? cos'è? non manda neanche c'è proprio una chat interattiva qual è il mio nome? metto panino tube ok e mo qual è il suo nome invece? aspettate però interagisce con la mia chat piacere di conoscerti panino tube aspettate questa cosa mi sembra veramente molto particolare and you chiediamole il suo nome manda qua vediamo vuoi diventare mio amico? yes chiediamo diciamole qua yes ok parlami a proposito di te non lo so I am a youtuber sono uno youtuber e dico questo ok piacere di conoscerti pro vabbè sentite facciamo una cosa passiamo all'ultima app così poi possiamo concludere sto video e veramente così mommy long legs può tornare anche lei a dormire ultima app la schermata è questa l'altra schermata che non ha nulla a che vedere con le cose horror tocchiamo start abbiamo la chat la live stream cos'è? cos'è sta cosa? mentre usi l'app cos'è? ma sto facendo una live guardate sto facendo una diretta live c'è mommy long legs nella chat ma cos'è sta cosa? ma sembra di fare quelle live su instagram su tiktok che vengono le chat così hello mommy long legs come stai? come stai? vuoi giocare? mamma mia ma quanto sta scrivendo? ma quanto è veloce scrivere questa? ok non vuoi non vuoi non preoccuparti noi siamo amici ok va bene ma cos'è? da notare che passiamo da 88 spettatori a 27 adesso a 66 c'è un'oscillazione veramente improvvisa ma cos'è? ma che roba? ma perché? 3 spettatori adesso siamo in 3 spettatori 97 così da 3 a 97 ma magari ci fosse l'oscillazione così soprattutto quando faccio le premiere ma magari ma cos'è? no bellissimo no? su questa cosa qua magari ci farò un video dedicato a parte dove facciamo una live con mommy long legs vabbè lei mi ha scritto mommy long legs in chat lei sta guardando ogni singolo tuo movimento e vabbè grazie a non so che cosa è normale che sta guardando ogni mio movimento e sono qua in live ciao ciao amichetti che state in chat in live no ma senza parole proprio senza parole senza parole come si chiude sta live come si chiude come si fa tanto qua ormai mommy long legs non scrive più ma che roba vabbè dai io direi di fare una cosa direi che per il momento possiamo fermarci qua con il video fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se vorreste vedere altri video di questo tipo spero che questo video vi è piaciuto mi raccomando spari se condividete iscritto al canale con la campanella attiva l'avventura non finisce qua perché qui davanti a voi compariranno ben 4 schede con 4 serie differenti cliccate ne una buona visione noi ci vediamo direttamente in una di quelle serie no? ciao a tutti e buon panino a tutti